Musica Ecco la storia di una bambina a cui è stato permesso di crescere libera. Libera di seguire le proprie aspirazioni, i propri sogni. E questo le ha permesso di esplorare se stessa e il mondo. E il cielo, sì, le stelle, che le hanno illuminato il cammino fino ad arrivare alla guida dell'osservatorio astronomico di Trieste, prima direttrice donna in Italia. Avete capito di chi sto parlando? Ma iniziamo dal principio. Una bambina bionda, scatenata e sorridente, che sgambetta a tutta velocità, con le braccia aperte in un prato apparentemente infinito, sogna di essere un aeroplano che accarezza le nuvole. E conoscendola starà facendo anche una bella linguaccia irriverente a chi la osserva. Ecco a voi Margherita Huck. Quella Margherita, sì, che sarebbe diventata una delle più famose scienziate italiane. Spirito libero, sguardo verso il cielo, un'energia inesauribile e contagiosa. Quella corsa è il suo ricordo più antico. Un ricordo vecchio di quasi cento anni. E in quella corsa, fatta con la gioia e la spensieratezza dei suoi due anni, ci sono già tutte le caratteristiche che l'avrebbero accompagnata per oltre 90 anni. Nata in via delle cento stelle, il 12 giugno 1922, Margherita Huck non ha mai creduto al destino. No, non era romantica Margherita e nemmeno superstiziosa, guardava i fatti e a quelli credeva. Però l'idea di essere cresciuta a Firenze, in una strada che si chiamava via delle cento stelle, in una strada vicino a via Guglielmo Marconi e a via Alessandro Volta, altri due famosi scienziati, l'ha sempre fatta sorridere. Era una coincidenza di cui andava fiera, la raccontava con stupore come se, chissà, forse in verità pensasse o magari sperasse di essere stata proprio chiamata dalle stelle. Abitava con mamma Maria Teresa e papà Roberto in un elegante appartamento proprio all'angolo tra via Caselli, una stradina in discesa e via delle cento stelle. Si trovava al primo piano di una piccola palazzina, con la cucina, un salotto spazioso, la camera con dei leoni disegnati sulla parite vicino al lettino e una stanza per il pianoforte, dove ogni sera la madre si esercitava, facendo l'addormentare rannicchiata ai suoi piedi. E forse perché suo padre lavorava come impiegata alla società elettrica del Valtarno, che forniva energia all'intera Toscana, nella loro casa tutto funzionava con la corrente elettrica. E c'era abbondanza di luce. Oh, guardate che siamo nel 1922, un secolo fa, e non era così usuale, eh! Poco distante, poi, c'era un grande prato verde, chiamato Campo di Marte. Era il posto preferito da Margherita. Soprattutto perché da quei campi decollavano dai piccoli a elica. E c'era un pilota molto famoso, Vasco Magrini, che faceva delle acropazie spericolate, attaccando al veicolo strisce colorate e scritte pubblicitarie. Margherita lo seguiva con gli occhi. Poi saltava dentro a un cerchio di ferro, imitava il rombo del motore, e immaginava di decollare. Lo stesso cerchio che un attimo dopo avrebbe fatto rotolare, spingendolo e tenendolo in equilibrio con un bastone di legno, galoppando per le vie del quartiere. Due giorni. Non un minuto di più, eh! Tanto, anzi, poco è stato il tempo che Margherita ha passato all'asilo. Mamma e papà hanno provato a iscriverla, ma lei sembrava di stare in prigione e non bastava neppure il cioccolatino che le davano prima di entrare. Appena avercata la poglia, iniziava a piangere, a urlare, senza calmarsi più. Molto meglio andare a correre sui prati, no? Stare in terrazza e inventare giochi con i vicini di casa. E sfrecciare sul monopattino il legno nelle strade e in discesa, a farle compagnia poi, c'era un inseparabile cane di pezza. Un pupazzo che si portava sempre dietro. Non sopportava proprio i giochi considerati da bambina. Non la divertivano. Una volta le avevano regalato una bambola, tutta rosa. E lei l'aveva subito dimenticata in un angolo perché non sapeva che cosa farci. Dopo pochi anni però, siamo nel 1927, la vita di Margherita cambia. Il padre viene licenziato per le sue idee politiche. E lei non capisce ma, da lì a poco, tutto cambia. Grazie. 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 Grazie.